Stanno distruggendo i nostri luoghi di cultura, stanno distruggendo le nostre scuole, stanno distruggendo le nostre università, tagliano i fondi, non riparano le strutture. Viviamo in un mondo in cui le scuole sono fatiscenti, non hanno né i soldi per ripararle né i soldi per pagare i professori quando devono venire. Viviamo in un mondo in cui i ministri si possono permettere di far passare leggi di stabilità che vanno a ledere direttamente il contratto dei professori, che aumentano il tetto delle ore frontali, che gli abbassano lo stipendio, così facendo diminuiscono la qualità della cultura e del sapere che ci possono offrire i nostri professori.